È molto interessante vedere in culture diverse quale attenzione diversa c'è al dibattito sulla cura dei beni comuni. Il dibattito sulla cura si iscrive in una visione della società nuova, oltre alla società del consumo dopo la grande crisi economico finanziaria del 2008 si è iniziato a chiamarla società della cura proprio per descrivere tutte quelle persone che nel mondo oltre a consumare dedicano anche parte del loro tempo e delle loro energie al proprio prendersi cura di aspetti materiali come appunto la cura del verde, gli italiani impegnati nei patti di collaborazione in corso in Italia sono circa metà delle volte dedicati alla cura del verde. In Francia questo diritto alla cura dei beni comuni passa in prima battuta per l'attenzione, l'interesse e la cura proprio dei dati digitali, cioè se sono per esempio faccio parte di una comunità nei Pirenei che interessata a produrre energia alternativa, beh una delle prime cose di cui mi preoccupo è di capire come va il consumo di energia nella mia cittadina, nel mio territorio e quindi come dire una delle prime battaglie che faccio da francese è proprio quella di chiedere a Energie de France i dati che mi illustrano i consumi e rispetto ai quali quindi io posso fare un progetto alternativo. Stessa cosa diciamo rispetto ad altre piattaforme, l'organizzazione della consegna a domicilio dei passi per esempio viene riletta in chiave di cura dei beni comuni nel senso che si mette al centro il diritto a potersi ammalare, il diritto ad avere delle ferie e quindi questi diritti di nuovo secondo i commoners francesi passano anzitutto dal diritto di potersi costruire una piattaforma alternativa che appunto abbia delle regole etiche di governance orizzontale eccetera per cui appunto si ridisegna il sistema alla scala chiaramente più micro. Quindi è molto secondo me centrale per il progetto Dare Ravenna mettersi in ascolto e anche aprire alla conoscenza di questa cultura francese della cura dei beni comuni digitali anche proprio per la cura dei diritti e di anche beni comuni poi materiali e metterla insieme a questa grande sensibilità che abbiamo in Italia per la cura della bellezza e anche per la cura dell'inclusione sociale che certamente ci contraddistingue come doppia tematica ricorrente nei patti di collaborazione.